Oggi siamo a Monte Rotondo Marittimo, 1 a 1 con il Monte Rotondo, siamo qui con Massimo Cavaglioni, il mister del Monte Rotondo. Allora oggi, come hai visto i tuoi ragazzi in campo e come valuti la prestazione globale? Ma è stata una buona partita, diciamo, giocata da entrambi, abbastanza bene, da entrambi le squadre, rispondendo il campo pesante, cioè di questi atti dell'ultimo periodo. E in tutto il fondo, questo è un buon Monte Rotondo per i nostri foscienti musici del tempo, delle buone occasioni che è nata anche il Pol, anche una delle buone trame. E questo poi, che neanche dalle atto che faccio il lavoro, un solo di tempo, l'ha fatto meglio di noi. C'è anche tutto, noi ci siamo un po' tirati un po' troppo indietro e è venuto, diciamo, obiettivamente anche un pareggio che alla fine della partita, diciamo, può essere anche giusto. Poi noi abbiamo avuto l'ultimo quarto d'ora, un po' una reazione, però sinceramente non ci sono state occasioni a dire che poi, insomma, con il metro, fare il giro, ci costano. Le altre squadre mi sono sembrate che, analizzando, diciamo, queste primi eventi passite, stanno facendo bene, penso, come obiettivi, diciamo, che ci siamo creati all'inizio del campionato, andiamo avanti, cerchiamo di togliersi le soddisfazioni possibili, anche perché, mancando, siamo un terzo del campionato, ci siamo ancora in una zona, diciamo, fra, non dico rischiare, però si può sempre aspirare a un'altra cosa. Ok, perfetto. Ti ringrazio, ciao Massimo. Grazie a voi, grazie, grazie.